Iniziata! Vai! Friburgo Juve! Ma chi è che mi chiama? Così, proviamo! Pronto? Allora ragazzi, ma quanta libertà che gli lasciamo a questi! Quanti passaggi abbiamo già sbagliato in nove minuti, nove! Comunque Gatti non me l'aspettavo, eh! Questo ve lo devo dire, non me l'aspettavo minimamente a titolare Gatti! Pensavo uno tra Rugani e De Sciglio! Quadrado, Quadrado! Bravo Locatelli, gran palla per Quadrado! Quadrado, difende questo pallone, ancora una gira volta a Quadrado, insiste! Si fa giù, si fa giù, si fa giù! Ha proprio provato a prendere il rigore, bravo Gatti qua! Ha tirato bene, bravo Loc, va bene, chiudila! Dai, dai! Primavera volontà della Juve di creare un pericolo! Bravo Gatti, molto bravo Gatti! Sembra quasi che la Juve abbia detto, ok, adesso basta! È il nostro momento di fare la partita! Sì Gattone, vai Micio! Ha cercato una palla molto difficile, Locatelli per Quadrado, ma è efficace! Siamo in area! Juan, va su a... Ehi, ehi, ehi! Ehi, ma qua l'ha toccato, eh! Qua l'ha saltato, eh! E qua l'ha saltato, eh! Ehi! Ma qua l'ha saltato! L'ha saltato e l'ha toccato qui, eh! Basta, non la fanno più rivedere, posto! Era un palla di Locatelli, però! Bella, davvero! Eh, non lo so, non ho capito, se lo tocca! Non è rigore? Ok, avete visto voi? Mmm! Mmm! No, è solo sul secondo, questo! Era già uscita Porca vacca! È stato un attimo di apnea qua, eh! No, è da solo! Perché? Perché li lasciamo da soli sui piazzati che dobbiamo anche star più attenti che la loro arma? Mamma mia! Li abbiamo proprio perso, questo in area, eh! Proprio persissimo! Bravo, gatti! Bravo! È che Di Maria è praticamente l'unico giocatore che ha segnato in questa competizione per la Juve L'altro gol l'aveva fatto Vlaovic, ma Su una giocata che nasceva comunque da Di Maria Guldo, della squadra Giniu Kostic Bremer! Ce l'ha fatta! Buzhan! Grazie a Vlaovic! Forza a Juve! Dopo la traversa! Il ripallo! Tomovic e Vlaovic! Che provoca l'importante! Si è risbloccato! Si è risbloccato! Gli serviva! Tantissimo gli serviva! Mamma mia! Sulla traversa di Bremer ho detto no! 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 Ho proprio detto no! Ma di chi? Di Ken? È l'unica di Ken! Ma di chi? Ma come è annullato? Ma di chi? Ma di chi? Ma di chi? Bremer è buonissimo eh! Bremer è buonissimo! O Ken o nessun altro! Ah! Di Vlaovic! È una classica serata da Juventus che gioca un ritorno in Europa! Classica! Succedono delle cose un po' particolari! Dietro al portiere devi avere due giocatori che lo tengano in gioco! Pensa a te! Quando sei dietro al portiere servono due giocatori per tenerlo in gioco! Ce n'era solo uno! Allora sì! Di solito noi prendiamo un palo o una traversa nella partita di ritorno in Europa! E loro hanno un rigore! Di solito funziona così! Quindi traversa ce la siamo tolti! Aspettiamo il loro rigore! Ah! Madonna! Gli è entrato proprio! Ma proprio tanto gli è entrato eh! Cazzo di intervento da delinquente! Graziato qua al numero 5 eh! Graziato proprio! Sì Dujan! Sì Dujan! Fallo eh! Eh ma come no! Eh ma come no! Oh! 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 Eh ma direttore! Ma scusami eh! Ma certo che è arrivato in ritardo! Ma stiamo scherzando? Vabbè allora vale tutto! Allora vale tutto! Vale qualsiasi cosa! Perché sono tutte così? Perché sono tutte così le nostre partite di ritorno? Perché? Ah ah che buffone! Ma che buffone il 5! Che buffone il 5! Ti giuro che se viene espulso guldo festeggio per una settimana! Vado a prendere una birra e la stappo! Bella palla di rabbio per Ken! 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 Tieni in fondo! Il riflesso di Fleck! E non è finita la più altra possibilità! Non si penso a cercare la vicina riva! Ma diventerà comunque... Era una bellissima azione della Juve! Palla avanti palla indietro! Bravo! Fagioli! Sì Micio! Sì! No! Ma no! Gatti in aria di Mancino! Se lo meritava la grande! Quanto se lo meritava! Sarebbe stato bellissimo! Sarebbe stato magico! Rabbio chiede la mano! Ma ancora mano del 5! No non ci credo! Mamma mia gulde! Mamma mia gulde! Vado a prendere la birra! Oh figlia! L'ha parata! L'ha parata lui! Datteli guanti! Datteli guanti! Rigore ed espulsione! A questo signore col numero 5! Secondo cartellino a questo signore col numero 5! A fare la doccia! Prima! Calcio di rigore! Dove sei gulde? Dove sei gulde? Dove sei? Vieni pure qui! A fare la doccia gulde! Vado a stappare una birra! Vado a prendere la birra immediatamente! Mamma mia che bello! Guarda sono già contento! Anche se usciamo! Anche se usciamo sono contento! Vai Duzan! Tu vogliono due palle così! E' ripetersi dal dischetto dopo il palo di Genova! Allegri gli ha chiesto di tirarlo centrale l'altra volta! Vediamo se è da retta! Sei! È entrata! Non può piovere per sempre! Non può! Non può piovere per sempre! Yes! Mamma mia guldo a fare la doccia! Vado a prendere la birra! Vado a prendere la birra subito! Eccoci la birretta! Ha maggior ragione la birra contro i tedeschi! Alla tua gulde! Che bravo Scesni! Che bravo Scesni! È punizione in aria! È punizione in aria mi sa! Che bravo Scesni! Donna ragazzi! Però non possiamo fare ste robe qui noi eh! Non possiamo fare ste brutture! Perché queste sono proprio brutture! Eh sì noi abbiamo fatto i primi 15 del primo tempo E i primi 15 del secondo Che la palla proprio non ci interessa! Dai ragazzi eh! Adesso abbiamo mezz'ora Dobbiamo ricominciare a A capire che bisogna chiudere sta partita! Entra il grifo da loro! Minchia ragazzi! Ci stanno facendo una melina E un uomo in meno Non la prendiamo mai! Mamma mia! Mamma mia ragazzi! Che fatiche che facciamo sempre! Facciamo delle fatiche che neanche Ercole Le faceva così ste fatiche! Santo il signore signori! Santo il signore signori! Dai dai dai! Spacchiamo sta partita! Strappiamo! Giochiamo gli ultimi 15 minuti Senza l'ansia Andiamo a fare sto 2-0 Ma non è il discorso di stancarsi Cioè non è il discorso di È incazzato anche Allegri Il discorso che bisogna chiudere sta partita Non è che ti stanchi se fai un gol Cioè ti stanchi uguale a Non è che devi far l'assalto Però devi provare a A segnare E non ci stiamo provando Cioè nel secondo tempo non abbiamo mai provato a segnare Mai! E stiamo continuamente ballando sulle loro palle inattive No rega non stiamo gestendo adesso Adesso non stiamo gestendo Mi dispiace non stiamo gestendo adesso Adesso stiamo rischiando che loro la riaprano Rischiando che in 13 minuti Possano trovare un episodio, una deviazione, un rimpallo, un rigore, un qualsiasi cosa Non è gestione questa Si ha ragione ad essere incazzato Allegri Cioè Non stiamo facendo bene nella fase offensiva Né quella difensiva Il problema è che gli facciamo mettere davvero troppe palle dentro l'area Troppe Bravo Fede Ma basta le traverse di Chiesa Che bello Il gol di Federico Chiesa è sempre bello È sempre bello Vittoria E qualificazione Per la Juve Grazie a tutti